I problemi del settore dell'igiene ambientale in Sicilia sono stati al centro ieri di un incontro tra la Presidente della Quarta Commissione Legislativa dell'Arsi, Mariella Maggio, e i rappresentanti della Funzione Pubblica CGL regionale. Il sindacato ha denunciato i ritardi che si scontano in tutta la regione nell'avvio della riforma del 2010 con pesanti conseguenze sia sulla gestione dei rifiuti che sul personale. 12.000 addetti che, tra le altre cose, vedono il posto di lavoro messo continuamente in discussione dai campi di appalto senza regole. Alla Commissione, Gaetano Agliozzo e Alfonso Buscemi, rispettivamente segretario generale e componente della Segreteria della Funzione Pubblica, hanno consegnato un documento che illustra i problemi aperti nel comparto e sollecita il confronto immediato con i vertici siciliani che hanno la responsabilità del governo, del settore e l'intervento nei singoli territori per verificare lo stato di applicazione delle norme. Apprezziamo l'attenzione della Commissione Territorio e Ambiente, dicono Agliozzo e Buscemi, ma nel contempo non possiamo che essere critici verso l'assessore regionale all'ambiente assente oggi al confronto, così come responsabili del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Riteniamo fondamentale, aggiungono, una presa di coscienza del governo regionale sulla gravità dei problemi aperti e sulla necessità di agire per salvaguardare i posti di lavoro, applicare le regole vigenti e arrivare quanto prima alla definizione di un piano rifiuti che risolva gli annosi problemi di gestione del settore. Nel documento della Funzione Pubblica si rivela che le società di regolamentazione dei rifiuti, SRR, non sono state uniformemente costituite e laddove create non svolgono appieno il proprio ruolo. Stessa cosa vale per i piani d'ambito.